Henry, il libro giallo, ah Henry, la cioccolata calda, ma non nella tazza, nel bicchiere, hai capito? Tesoro, amore mio, ma che stai facendo qui? Vado a Milano, e forse dopo torno a Napoli. No, non c'è andare a Napoli, non è per te, ma che ci vai a fare caro? Gira il mondo, viaggia, divertiti. Ehi, l'hai visto quello spilungone? Sì. Malonna mia, quanto sei bella. Bugiardo. Lo sposo, sai? L'inglese è mio. Ah sì? Sì, è carino. Sai, abbiamo deciso di andarci a sposare a Vienna. Una pazzia. Ma come potrebbe essere una cosa mia, altrimenti... Io lo sapevo che c'era qualcosa. Tu? L'avevo capito. Ah sì? E da cosa? Non ci crederai, ma da come nonna mi rispondeva al telefono. E come rispondeva? Rideva, era contentissima. Che simpatica. Mi trovo insopportabile? C'ha ragione. Povera donna. Adesso per un po' stare tranquilla. Bella. Ma che figlio grande che ho io. Perché sei cresciuto così in fretta, eh? Sei un uomo. Vuoi che te lo presenti, il mio amore? Ecco il mio ragazzo. La vedi quella a Milano? Giuditta? Oh, l'hanno i tuoi capelli. Beh, che hanno? Sono lunghi. Sembra un cappellone. Uè, come sei antica, mamma. Mi stanno bene così. Ma... Sei nervosa, amore? Mi preoccupi. Come sono sfortunata. non sono mai stata capace di occuparmi di quelli che ami. Ehi, lo spilongone non torna. Magari ci avessi ripensato. Sarebbe meraviglioso. Sai cosa facciamo? Ce ne andiamo soli e soli a Parigi. E ci diventiremo da matti, io e te. Io e te. No, mamma. Stati bene, mamma. Lo sai che mi hai ridato la sicurezza? Io... Non ti ho mai dato niente, io. Ma cosa dici, mamma? La tua fantasia? Ti pare poco? Vai, moro mio, vai. Vai, vai. Vai, non ti ho mai. Grazie a tutti.